Un lieve aumento dei contagi che passano dai 63 di ieri agli 84 delle ultime 24 ore, un ulteriore calo dei ricoverati che scendono da 214 a 212 e due deceduti provenienti rispettivamente dalle province di Bari e Taranto. Sono i dati più significativi emersi dal bollettino epidemiologico del 18 settembre. Con il dato odierno salgono a 6.836 casi di positività al coronavirus registrati in Puglia da inizio epidemia, di cui 1.986 attualmente positivi, 4.273 guariti e 577 deceduti. 11 sono i nuovi guariti odierni. Sale da 1.701 a 1.743 il totale dei quarantenati. Anche nelle ultime 24 ore la provincia con il maggior incremento di casi è quella di Bari. Dei 35 positivi rilevati, 25 riguardano contatti stretti collegati a casi già noti, mentre per i restanti 10 è in corso l'attività di tracciamento. Totale del barese è ora di 2.640. 23 sono i nuovi contagi in provincia di Foggia. 17 sono contatti di casi già individuati, 3 sono persone sintomatiche, 3 sono cittadini asintomatici individuati durante le attività di screening. Il dato complessivo del Foggiano è ora di 1.606. Di 551 invece è il numero totale dei pazienti registrati nella provincia Bat, zona nella quale sono stati 11 i nuovi casi odierni. Di questi 6 si sono rivolti al pronto soccorso con sintomi lievi, 4 sono contatti stretti di positivi registrati nei giorni scorsi. Su un ultimo caso sono in corso indagini epidemiologiche. 6, tutti riconducibili ad un focolaio precedentemente individuato, sono i nuovi casi della provincia di Taranto, zona che sale a 490 contagi totali. 3 contatti stretti di casi già noti e 2 residenti in provincia sottoposti a tampone di screening sono invece i 5 nuovi positivi in provincia di Lecce, area il cui dato complessivo è ora di 743. A chiudere il quadro odierno i 4 casi nel Brindisino, dei quali 2 sono contatti stretti di casi già individuati e 2 sono persone sottoposte a tampone dopo aver manifestato sintomi collegabili al Covid. Totale della zona Messapica è di 753 casi registrati da inizio epidemia. I 3.773 test odierni portano a 368.571 il totale dei tamponi effettuati in Puglia.